Cari amici di Meteo Giuliacci, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitti. Un inizio di settimana, attenzione, ancora instabile, dove soprattutto al centro e al sud, in particolar modo dai settori meridionali dell'Umbria, in giù, con dei rovesci di pioggia, dei temporali, temporali anche marcati tra la Puglia, centro settentrionale, sulla Basilicata, sulla Calabria, avremo dei rovesci di pioggia sparsi quindi al centro-sud e, tanto per cambiare ancora anche delle nevicate, oltre 1.300-1.500 metri, in serata, anche se poi in serata tenderà comunque a migliorare un po' dappertutto, quota neve che tenderà a calarsi verso i 1.000-1.100 metri, nei rovesci di pioggia saranno possibili sulla Sardegna occidentale e sulla Sicilia, soprattutto un po' più settentrionale, anche se qualche nucleo sfilerà instabile, anche sulla Sicilia sudorientale, quindi sui settori centro-meridionali. Occhio al nord-est nella seconda parte della giornata, anzi, per la verità, soprattutto nelle ore centrali della giornata, qualche fenomeno sarà possibile sui rilievi, sui rilievi del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, altrove al nord, situazione piuttosto tranquilla. È tutto, cari amici di Meteo Giuliacci, noi ci riaggiorniamo presto, arrivederci.